Sì, mi chiedo se sono dei bravi bugiardi gli attori, sono dei bravi bugiardi? Tutti? Vuol dire essere... Sì. No, sì. No, sì. Scusa, domanda da ignorante, come si fa a piangere? Ma abbiamo cominciato, no? Abbiamo cominciato, l'obiettivo di questo podcast è che si comincia senza accorgersi. Senza avvisare. Ma questo è bello. Ciao, sono Francesco Già. E io sono Giulia Valentina. Questo è Showoff, il podcast di Will in collaborazione con Sky Italia, che racconta come sta cambiando il mondo dell'intrattenimento. Chiacchierando con i suoi protagonisti. Oggi parliamo di come sta cambiando il mestiere dell'attore con Claudio Santamaria. Uno che ha iniziato come doppiatore, fa la voce di Batman e pensava che il mestiere dell'attore fosse inutile. Ma come si fa a piangere? All'inizio pensavo le peggio cose, pensavo che moriva qualcuno, qualcuno di molto vicino. Per esempio, feci questo monologo da una tragedia di Sofocle, non mi ricordo neanche la filottete mi sembra, il figlio di Ercole che raccontava alla madre come era morto suo padre, che dopo che aveva superato le sue dodici fatiche, gli arrivò questa tunica, credo data... Scusate, magari... Tanto noi annuiamo perché non sappiamo niente. No, no, ma magari... Io il terrore perché ogni tanto mi guardo come dire come si chiamava Già. Qualcuno che ascolta dirà ignorante, non è quello. Il centauro Nesso, per vendicarsi, gli fa arrivare questa tunica intrisa di veleno. Lui cosa fa? Inizia a bruciare, a fare un grande falò, un grande fuoco, per celebrare e ringraziare gli dèi, bruciavano i vitelli, buttavano... Non so che facevano sti greci. Insomma, sacrificavano agli dèi, al che questo fuoco inizia a farlo sudare, e Ercole, davanti al figlio, inizia a sentire spasmi di dolore, questa tunica si appiccica al suo corpo, si incolla al suo corpo e questo veleno di cui era entriso lo devasta e lo uccide, tra atroci dolori. E questo è un bel inizio di podcast, mi sembra, no? Sì, un po' di positività. E quindi lui racconta tutto questo a sua madre in lacrime perché... perché pensa che sia stato lei a tradire il padre. In realtà non è così. E quindi io immaginavo... Ahimè, immaginavo mio padre... Immaginavo... Cioè avevo... Cioè l'attore fa... Si deve porre dei trucchi, cioè l'attore si deve prendere in giro. Ovvero io prendevo Ercole, gli sostituivo come si fa oggi con le applicazioni che fa il face replacement e mettevo la faccia di mio padre, morente, a letto che mi... No? E quindi questa cosa mi addolorava tantissimo. Quindi non pensavo a piangere, ma questa cosa di conseguenza mi faceva piangere, mi faceva soffrire. Poi voglio dire anche, l'obiettivo di un attore non è piangere, ma è portare a casa il tuo obiettivo come personaggio, no? Poi se ti escono le lacrime, se piangi, va bene, ma non è quello. Molti pensano che recitare bene sia urlare, piangere o fare altro. In realtà... L'obiettivo è commuovere me, che ti sto guardando. Poi come lo fai... Esatto. Quindi oltre a convincere chi sta guardando, devi convincere anche te stesso in qualche modo, perché se sostituisci la faccia appunto con quella di tuo padre, ci devi anche credere. Cioè deve essere proprio... Forse la parte più difficile è quella di autoconvincersi. Devi essere un po' matto, cioè devi un po' prenderti in giro. Sì, perché se non ci credi non riesci. Adesso che dicevi che tu usavi questa... Cioè pensi magari appunto, sostituendo tuo padre, io penso magari quando mi viene troppo da ridere, cerco di pensare a una cosa triste per essere seria, ma non riesco a convincermi, quindi mi fa ancora più ridere, no? Quindi io figuriamoci, non riesco a convincere me stessa, immagino, gli altri. È tutto un fatto di convinzione alla fine, questo mestiere è credere. È credere, credere, credere. Credere alle proprie bugie, come si dice. Infatti mi chiedo se sono dei bravi bugiardi gli attori, sono dei bravi bugiardi? Tutti? Vuol dire essere... Sì. No, sì. No, sì. Questo è il trucco. Il trucco è questo. Ma guarda, la nostra... Mi ricordo che sta insegnante, dopo la prima scuola di doppiaggio e recitazione a 16 anni, fu scartato... La capetta. Esatto. Fu scartato al centro sperimentale e all'Accademia di Arte Drammatica. Però, insomma, sai, fai un provino, come in qualsiasi provino può andare bene o male. E quindi iniziai una scuola privata da Beatrice Bracco. Che è una che ha insegnato a tantissimi attori. Ha insegnato a tanti attori. Anche me lo su Stuart, Claudia Gerini, Paolo Cortellesi. Sì, sì. Tante persone hanno studiato con lei. E lei faceva questo esercizio che si chiamava proprio il credere. Ed era una cosa divertentissima. in cui ti diceva, tu sei in una sauna. E qui stai facendo le tue cose, sei a torso nudo, fai la sauna. A te magari diceva, all'orecchio, senza far sentire a lui, tu ti trovi in chiesa e sei venuto a pregare per qualcuno, per qualcosa. L'unica regola dell'esercizio è che non si può dire, io sono in chiesa, io sono in una sauna. Ma dovete relazionarvi ognuno col vostro ambiente e credere fortemente di trovarvi in quell'ambiente lì. E uscivano fuori delle cose divertentissime. Perché a un certo punto uno si spogliava e l'altro lo guardava. Diceva, ma che fa questo? E pregava ancora di più il Signore. E ognuno doveva lavorare tantissimo sul suo ambiente. Sul credere di trovarsi in quell'ambiente. Mentre lo condivideva con l'altra persona. Erano a teatro insieme. Quindi uno, erano sul palcoscenico insieme. Quindi entrava prima quello che era in chiesa, per esempio. Iniziava inginocchiato a pregare. E a un certo punto arrivava l'altro. Che si trovava nel suo ambiente. E iniziava a togliersi la maglietta. E l'altro lo guardava come fosse un alieno. E quello diceva, ma che fa? Ma perché parla piano? Diceva l'altro. Capito? L'unica regola dell'esercizio, così come una regola dell'improvvisazione, è che non puoi contraddire l'altro. Cioè, se l'altro dice, siamo sposati, tu non puoi dire, ma non è vero. Perché sennò lì rompi questo gioco, no? Certo. Devi costruire assieme una narrazione. Devi costruire assieme una narrazione e credere fortemente al luogo in cui ti trovi. Per esempio, una cosa che ci fece il primo giorno, lei stava parlando e disse, l'ambiente è importante. E ci disse, ma lo possiamo fare anche qua, immaginate di essere non in questa stanza, ma di essere su un treno. Ok. Iniziamo a dove? No. Ma che treni prendi? Sono abbastanza fermi. Sì, siamo nel 1980. Cioè, ma che è? Ma anche i tram si muovono così. No, la cosa dell'esercizio non è far fin, è utilizzare quello che hai e integrarlo con ciò in cui devi credere, ovvero, che strano questo treno. C'è uno davanti con una telecamera che fa sinistra-destra, sarà il controllore. C'è una persona alla sinistra col microfono e ho anche un microfono davanti. È uno strano treno, no? Quindi non è di eliminare quello che c'è, di far finta che non ci sia, ma di integrarlo con ciò in cui stai credendo. Cioè, io sto andando lì. È la benzina dell'attore. La convinzione, il credere in qualcosa. Ah, io la finirei qua. È bellissimo. Ciao, arrivederci. È bellissimo. Domant'è lo faccio. Ti cambia l'umore. È bellissimo. Tu prima hai parlato di metodo Stanislavski, il famosissimo metodo Stanislavski. Possiamo chiedere, spiegare che cos'è e se si usa ancora oggi o se stanno cambiando le tecniche di recitazione oggi? Allora, Stanislavski era un attore e regista del teatro d'arte di Mosca, che ha vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. E ha costruito un metodo per insegnare gli attori a essere veri. Cioè, lui vedeva che nel teatro c'era molta finzione, che gli attori recitavano troppo, erano molto esagerati. Che non facevano come si fa nella vita. Questo metodo, per assurdo, parte dall'osservazione di Stanislavski di alcuni attori italiani. Ma veramente? Eleonora Duse, fra tutti proprio, la più grande attrice del teatro, che ha fatto anche un film muto, che si chiama Cenere, in cui era già molto vecchia. Tommaso Salvini e Ernesto Rossi. Stanislavski, osservando questi attori, questi grandi attori, diceva, come fanno questi attori a entrare sulla scena, a catturare il pubblico e a non mollarlo più fino alla fine, fino all'ultima battuta. Quindi lui cosa ha fatto? Ha capito che avevano un talento incredibile, ma ha capito che erano molto veri sul palco. Avevano una grande tecnica, ma erano molto veri. Quindi ha costruito, ha inventato una psicotecnica, una tecnica teatrale, per far vivere un'esperienza reale, realistica, agli attori in scena. E quindi c'è... Lui ha concentrato il suo lavoro, verso la fine, molto sulle azioni. Ok. No? Quindi ha preso questo attore, a un certo punto, che era già molto affermato, molto famoso, in Russia, e gli ha fatto fare tre spettacoli con lui. Questo libro, che è Stanislavski alle prove, gli ultimi anni, di questo attore, si chiama Toporkov, che non è una parolaccia, e... si è messo in grande... cioè, l'ha messo in grande difficoltà, si è messo in gioco, perché lui faceva le cose, dice, guardi dal buco della serratura, dice, ma no, non è possibile, dice, lei sta fingendo, non sta guardando, lei mi sta mostrando che guarda dal buco. Guardi veramente che c'è dall'altra parte. E poi da sotto, Stanislavski gli diceva, adesso infilano un ferro da calza nel buco della serratura, e lui automaticamente, istintivamente ha fatto questo, dice, adesso era vero, ha visto, perché non se lo aspettava. E lui, piano piano, è un libro molto bello per chi vuole conoscere di questo mestiere, perché prende un attore già strutturato e affermato, e lo distrugge, tra virgolette, nel senso che lo impai, si destruttura fino ad arrivare a toccare qualcosa di vero dentro di sé, a vivere un'esperienza. Che è successo? Stanislavski va in tournée negli Stati Uniti, intorno agli anni 20, e rimane bloccato dalla guerra per cinque anni. Quindi questo metodo viene preso dagli Stati Uniti, quindi da Strasberg, che lo amplia, lo perfeziona e fonda Lector Studio insieme a Cheryl Crawford e Harold Krurman, Elia Kazan, e quindi fondano questa scuola. Marlon Brando ed Elia Kazan sono le due persone che porteranno questo metodo al mondo, perché Elia Kazan con la sua regia e Marlon Brando con la sua recitazione in film come Tram che si chiama Desiderio e Fronte del Porto, loro due diranno al mondo è così che si recita e non c'è altro modo se non questa scuola. Quindi in America dai tempi che furono c'è questa direzione molto forte, quindi in America se vuoi studiare recitazione non hai dubbi. Il mitico Actor Studio c'è ancora, hanno studiato tutti all'actor studio, De Niro, tutti all'actor studio cioè gli attori di oggi esistono, esiste questo metodo perché c'è Marlon Brando perché Marlon Brando ha detto a tutti si recita così. Cioè lui entrava in scena leggendo le varie storie su di lui Tram che si chiama Desiderio è stato un test, un'opera teatrale prima. Certo. Il pubblico vedeva quest'uomo entrare in scena entrava, buttava un pacco con della carne sul tavolo, gridava qualcosa fuori in scena e usciva la gente credeva che un macchinista si fosse sbagliato, non si fosse accorto che si era aperto il sipari e c'era il pubblico e fosse entrato in scena totalmente ignaro di tutto. Invece era lui perché era talmente vero e talmente rozzo perché quel personaggio è simbolo di un'America rozza che prende il sopravvento su un'America più poetica è andata ormai che credevano che si fosse sbagliato perché non si recitava così. Cioè lui ha rotto tutte le convenzioni dell'epoca, ha rotto le convenzioni della recitazione e ha detto è questo in modo, la verità. Lui farfugliava più che parlare, cioè mormorava, era una questione proprio di suoni, di come masticava la gomma, era... Beh, lui dicevano che aveva un rotolo dei cartigiani che ha bagnato in bocca perché parlava... In quel film in particolare lui lavora sul gorilla quindi lui è un gorilla che parla... Perché lavora sul gorilla cosa significa? Almeno Stani Slasky di Spiria... Alcuni personaggi possono essere associati a degli animali quindi è un personaggio rozzo che agisce prima di pensare e quindi lui l'ha associato così come nel padrino lui ha lavorato su un bulldog o un pitbull a cui hanno sparato alla gola E quando così Lui ha fatto un lavoro su... Beh, sì, è un bulldog Su quell'animale Si mise i cerotti No, cerotti Sì, si mise l'ovatta sotto andò al provino così Lui è stato veramente il più grande attore della storia del Cina un genio assoluto Hai mai detto Il duca nel suo dominio? Quello te lo consiglio Truma il capotico Nentre gli smalti Ce l'ho Quello libro sta là Lo devo leggere Legge una sera È stupendo Sì Truman Capoti non riusciva a farlo parlare perché Marlon Brando non riusciva a intervistarlo Come fai a intervistare Marlon Brando che ti manda a fanculo dopo due minuti Truman Capoti Genio va nella sua camera va nella sua camera d'albergo e si mette a parlare per un'ora e mezza Truman Capoti dicendo tutti i suoi drammi mi ha lasciato tutti i suoi drammi Marlon Brando disse cazzo dopo un'ora e mezza che mi aveva detto tutti i suoi drammi non potevo che ricambiare dirgli i suoi certo e poi nel suo libro se non manca a voti leva quello che ha detto lui e mette solo quello che ha detto Marlon Brando è ovvio geniale ci voleva un altro genio c'era un bello studio sulle intenzioni dei consumatori fatto anche in Italia sul perché andiamo a vedere determinati film ed era sorto come le generazioni più grandi andavano a vedere il film e prendevano come fattore molto la star l'attore cioè se al pagino lo vado a vedere certo però la generazione Z poneva molto meno pressione sull'attore e molta più sulla trama esatto adesso è cambiato totalmente diciamo che non non c'è più uno star system vero e proprio oddio cioè c'è un pubblico come dire che fidelizza con degli attori io so che se faccio un film ho uno zoccolo duro di persone che si fidano di quello che faccio perché faccio magari delle scelte pensate insomma perché scelgo i film che andrei a vedere al cinema fondamentalmente ok quindi avendo io un gusto eccezionale avendo io un gran gusto scelgo dei film belli no però c'è questo ma lo star system che porta la massa al cinema sta scomparendo in Italia non c'è c'è un po' negli Stati Uniti c'è ancora negli Stati Uniti questo tipo di però gli attori che negli Stati Uniti come dire portano il grande pubblico sono attori di alcuni anni fa cioè penso a Brad Pitt è vero o anche c'è la nuova generazione adesso sai c'è c'è Timothee Chalamet che è un po' si trova nel periodo in cui si trovava Di Cabrio tra Titanic e Romeo e Giulietta diciamo cioè bisogna vedere se effettivamente poi la gente ti va a vedere al cinema perché una volta Di Cabrio Titanic lo potevi vedere solo al cinema cioè Di Cabrio quella ragazza non so se vi ricordate ma forse siete sicuramente non so quanti anni avevate ma quando è uscito Titanic uscì un articolo di giornale che una ragazza andò a vedere Titanic al cinema 29 o 39 volte qui diciamo c'è un problema c'è qualcosa che non lo so però ecco erano altri tempi cioè adesso Timothee Chalamet lo guardi sul suo social pensavo l'altro giorno adesso diciamo una celebrità un attore un cantante quali sono i suoi momenti privati cioè una volta eri al cinema eri a teatro eri a fare un concerto dopodiché ti ritiravi e non si sapeva dove fossi a meno che un paparazzo non ti seguisse e ti fotografasse in giro adesso quando uno non sta lavorando che fa? fa le storie mette i post e quindi dici un po' sempre dove sei e quindi la gente chissà se è meno portata poi ad andare al cinema a vederti sapete cosa stavo pensando abbiamo detto si vengono scelti magari dei personaggi che hanno seguito su TikTok sui social ma comunque non è un po' sempre stato così magari prima non avevano seguito su TikTok ma nei film magari sono sempre stati inseriti personaggi magari un po' inseriti nello star system molto famosi che non facevano gli attori ma gli facevano fare delle comparsi un po' per portare quindi non è tanto cambiato soltanto che è cambiato un po' lo star system magari ma alla fine nel cinema sono sempre stati inseriti dei personaggi che magari non c'entravano niente ma portavano gente sì beh un esempio eclatante per esempio è Celentano che fa Erpiu non so se avete mai visto no beh Celentano che fa Erpiu storia d'amore De Cortello è un film in cui lui fa il romano io penso che abbiano molto giocato sul fatto che lui è milanesissimo e finì ah o agge ma che te pensi cioè che parla così cioè capito che non è romano per niente capito all'epoca si facevano di queste cose però sì è vero quello che dici che c'è sempre stato questo ma erano casi magari sei isolati adesso avevano magari una popolarità data dal fatto che erano magari dei cantanti però che facevano comunque altre cose no adesso basta essere famosi io prendo sempre esempio la famosa frase di Andy Warhol che diceva nel futuro tutti avranno il loro quarto d'ora di celebrità capito celebrità per cosa questo mi domando voglio dire se tu crei dei contenuti interessanti cosa non facile perché adesso sembra che sia anche facile quello e quindi tutti si mettono a fare i contenuti così a nastro non è semplice creare un contenuto che sia interessante perché devi sempre raccontare qualcosa no come hai detto tu prima non vanno più al cinema per la star ma per la storia noi siamo patiti di storie la gente è appassionata di storie nel momento in cui ti vai a prendere un caffè ed è successo qualcosa tu dici al tuo amico raccontami che è successo e a te piace sentire quella cosa lì quindi se uno riesce a creare una storia col proprio social tanto di cappello ma da lì ad arrivare a fare un'altra cosa che è un altro mestiere che non c'entra niente con quello schermo soprattutto perché una cosa che diceva Stanislavski per esempio che l'attore non si deve mai guardare allo specchio cioè provare le proprie scene allo specchio è la morte della recitazione perché tu non puoi osservarti mentre vivi cioè non puoi pensare che quello che fai allo specchio poi funzionerà perché non è non è così fare invece un contenuto social è guardarsi continuamente allo specchio è guardare se stessi continuamente quindi non è non ha proprio niente a che fare con la recitazione che roba io penso sempre che avrà delle conseguenze questa cosa in qualche modo che scopriremo tra un po' di tempo ma anche il fatto di vedersi in continuazione non può non avere delle conseguenze assolutamente a lungo termine il nostro mestiere il mestiere dell'attore è un mestiere di esperienza devi aprirti all'esperienza di un'altra persona quindi devi conoscere quello che fa devi conoscere ciò che gli occupa la maggior parte del tempo e dei pensieri come utilizza il suo corpo tutti i giorni se è un operaio che lavora oppure un contadino che zappa la terra tutto il giorno non potrai stare così avere le mani pulite e stare dimmi caro è chiaro che avrai la schiena curva spezzata ma lo puoi fingere oppure puoi andare a fare l'esperienza di andare a zappare una settimana e sentire e avere una memoria fisica di quel lavoro sulla schiena e questo ti aiuterà a costruire un carattere no poi chi è veramente il personaggio lo scopri quando c'è un coltello alla gola cioè tu puoi costruire un personaggio e dargli tutte le caratterizzazioni che vuoi è simpatico è quelli ma quando poi si ritrova di notte sulla metro di Parigi con quattro scagnozzi col coltello qua allora capisci se lui dice no no scusate oppure no no certo lì capisci chi è il personaggio nelle situazioni estreme e quindi è un percorso di conoscenza di esperienza davvero o per gig io quando ho fatto gig che avevo la voce più bassa di due ottave e andavo in palestra quattro volte a settimana alzavo 110 kg di panca piana in tre mesi e chiunque mi chiamasse al telefono io parlavo come lui e mi diceva ma che è rientrato proprio ma come parli io che vuoi anche il doppiaggio per esempio che trovo molto più difficile del cinema attenzione doppiaggio più difficile io lo trovo molto difficile cioè un lavoro allora più c'è la tecnica e più diventa complicato cioè per assurdo il teatro per quanto faccia molta paura è più facile nel senso che tu entri in scena e vivi l'arco narrativo del tuo personaggio dall'inizio alla fine senza interruzioni arrivi su un set e magari a me è capitato di girare l'ultima scena del film quindi qui piangi disperato perché è morto il tuo migliore amico e poi giri tutte le altre scene che vengono prima quindi tu vivi questa emozione spezzata frammentata nel tempo nello spazio e devi sempre avere la consapevolezza di dove ti trovi in ogni secondo poi nel cinema attenzione non dipende solo da te perché teatro sei tu una volta che lo spettacolo è costruito con te su di te al cinema c'è un operatore che fa i fuochi direttore della fotografia che mette la luce quindi tu hai fatto la tua performance della vita ma eri fuori fuoco abbiamo ci sono su youtube la devi rifare ma come io ho dato tutto eri fuori fuoco poi un tempo c'era il pelo quando c'era la pellicola io mi arrabbio perché lui sta muovendo la macchina da presa la telecamera come si chiama se io vado là e gli do un pugno sul braccio mentre lui muove la macchina da presa la ripresa fa così se io vado dal microfonista e mentre lui sta tenendo il boom sopra di me gli faccio così l'audio non si sente più vedi vedi rabbino o vado da quello che fa i fuochi e gli sposto la mano viene fuori fuoco se tu mentre io sto nello spazio sacro tra virgolette della della mia recitazione del mio momento quando si dà il ciac e si dice azione se mentre io sto qua concentrato nel cercare di ricreare quello che abbiamo detto prima una cosa che non esiste che non è fisica e da un'altra parte io devo cercare di portarla qui se mentre io sto recitando tu te muovi dietro te gratti davanti a me io sto guardando lì un altro attore e dietro c'è uno che fa e cammina avanti indietro tu sbrocchi io impazzisco infatti io adesso ho capito prima di arrabbiarmi già vedo le persone indietro scusate potete andrò l'aiuto regista e dico puoi far togliere tutti indietro ma è una cosa che si fa in Italia purtroppo ci abbiamo fatto il callo nel senso che in Italia i set sono molto rumorosi ultimamente la cosa sta un po' cambiando perché ci stiamo un po' abituando a uno standard internazionale perché magari vengono a lavorare gli attori internazionali e se vola una mosca ti mandano a quel paese ti cacciano dal set sul set di James Bond quando ho avuto la fortuna di girare Casino Royale non volava una mosca anche allo stop c'era stop tutti zitti perché sei pagato per fare silenzio ed era rispettato il lavoro di tutti da quello che muove il carrello dal macchinista al macchinista che deve mettere il bulloncino si aspetta qui in Italia molto spesso forse perché abbiamo una tradizione di grandi registi come Fellini che poi doppiavano tutto quindi si parlava molto vieni col carrello vieni col fumo quindi i set noi abbiamo delle maestranze abituate a quello che hanno portato con loro dei giovani che lavorano e che si abituano a quello piano piano un po' sta scomparendo perché ci stiamo internazionalizzando ma sì io lo spero per assurdo su quel set mi sono sentito per la prima volta un operaio del mio mestiere cioè uno come gli altri cioè avevo un assistente di regia che era il mio segugio d'accordo cioè doveva sempre sapere dove mi trovassi quindi mi seguiva io andavo al bagno uscivo e me la trovavo davanti ovunque poi hai uno stand in ovvero una persona vestita come come il tuo personaggio quel giorno che fa le luci al posto tuo sì così tu non sei lì a diciamo perdere tempo quando lo può fare qualcun altro perdere tempo è perdere energia e concentrazione quindi stai lì tu guardi al monitor come sei inquadrato ed è un grandissimo vantaggio quindi gli attori americani per carità sono bravissimi ma sono due campionati diversi cioè noi abbiamo una 500 loro hanno un transatlantico non solo economicamente ma anche come mentalità perché hanno un altro modo di 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 concepire e di rispettare il lavoro di tutti quanti io volevo dire che io e Giulia non abbiamo stendini ragazzi ce le facciamo noi le luci io ho visto due prima qui al posto non lo so per esempio per dire per assurdo un film che in Italia aveva un budget importante come romanzo criminale la scena in cui muore il libanese eravamo a Santa Maria in Trastevere non è che c'era stendino cose stava andando giù il sole era il tramonto quindi Michele dice dai forse fai sta scena tu arrivi abbracci lui e piangi devi piangere noi siamo abituati a questo cinema e infatti siamo più avanti noi attori italiani sui set americani il paradiso il recito il mignolo non hai problemi ho visto situazioni girare scappare perché gli americani avrebbero avuto un altro giorno come dice Muccino un giorno eravamo tutti stanchi Will Smith ha detto sei stanco tu sì sì pure io vabbè andiamo a casa continuiamo domani perché lui era anche produttore ciao noi abbiamo girato e girato fino a volte fa straordinari di 5-6 ore in cui sei devastato cerchi di dire le cose di trovare insomma quanto è importante il ruolo della gente nel percorso di di un attore tu prima dicevi magari un attore può commettere degli errori sbagliare fare sempre parti che gli vengono bene dove viene identificato dal pubblico in un certo modo magari fa sempre il belloccio fa sempre e quanto la gente può aiutare un attore a fare le scelte giuste o magari non è proprio nelle mani della gente beh un agente è fondamentale in America per esempio hanno l'agente e hanno un manager che è quello che un po' costruisce la carriera però io trovo che insomma in Italia abbiamo l'agente che è una persona che ti aiuta fondamentalmente anche a dire dei no per assurdo una carriera si costruisce più sui no che sui sì io quando ho iniziato a fare i provini andai dalla mia agente buonanima Graziella Bonacchi che non c'è più è stata la mia agente da quando ho 23 anni fino a un po' di anni fa che ci ha lasciati e insomma siamo rimasti tutti orfani da io Favino a Corsi Locascio tutti i figli suoi figli artistici lei all'inizio fece un provino per l'ultimo capodanno di Marco Risi che è il primo film che ho fatto in vita mia che ho girato e poi ho fatto facevo tutta una serie di provini e a ogni provino puntualmente venivo scelto e io avrei fatto tutto e dice ma no lo faccio il ruolo in questa era una fiction ma dai lo faccio il ruolo perché comunque diciamo non avevo una lira e il sabato e la domenica andavo a lavorare in pizzeria per guadagnare qualcosa e mantenermi e quindi dicevo mi offrono lavoro mi pagano così perché no e lei dice no perché ti rovini perché inizi a fare delle cose che non ti piacciono e che non ti tirano su tu sei fatto per fare delle cose invece più importanti tu devi fare cinema e ho detto non lo fare da Miretta non lo fare e io ancora oggi ringrazio per aver detto quel no e da lì capendo tutta un'altra serie di no che mi hanno portato poi a invece a fare delle scelte più giuste e a fare dei film in cui davvero ho creduto perché poi in passato e in futuro dopo quella scelta lì ho fatto poi alcune cose perché mi pagavano e piangevo a volte mi scoppiava a piangere dicevo io non lo voglio fare questo mestiere per me è legato molto alla passione a quello che ti piace fare davvero io se una cosa non mi piace non ci riesco proprio e quindi ho faticato molto a volte e da lì piano piano ho come dire ho costruito la mia carriera appunto sui no prima dei consigli ti volevo chiedere secondo te nel futuro dell'attore ci saranno anche sinergie con altre realtà che non sono i film cioè reciterai per un videogioco con reciterai per un videopoto un videopoto film in VR un videogioco altre forme di recitazione che non siano la cassa lo fanno già lo fanno già c'è un gioco stupendo in cui ha recitato William Defoe e Ellen Page mi sembra dell'astovas dell'astovas e Ellen Page quello del gemello quello dei non è dell'astovas è di qualche anno fa ormai oddio c'è lei questa ragazza che ha il suo gemello morto come entità e tu puoi comandare lei o l'entità e fare delle cose che si chiama e il padre della ragazza è interpretato da William Defoe il scienziato il medico diciamo che è un cinema che già che già si fa in Italia non si fa ancora ovviamente se non stiamo imparando e stiamo diventando bravi adesso negli effetti speciali come perché non avevamo cose da fare nel senso la recitazione si applicerà sempre più su settori non so io immagino a volte che ti chiederanno di fare una banca dati con tutte le tue espressioni battute e parole dopodiché le prenderanno e ci faranno il film e tu comodamente da casa riceverai le royalties per questo in un futuro molto lontano spero di essere morto prima scusami invece qual è il film che dobbiamo vedere per vedere l'interpretazione più magistrale per capire proprio l'essenza della recitazione nella sua radice proprio che dici cazzo vediti sto film c'è due ore per capire fronte del porto in lingua originale di Marlon Brando ok l'ho visto fronte del porto un tram che si chiama desiderio tutto in lingua originale vi dico film in bianco e nero ma anche è un pugile fallito che cerca di riscattarsi si esatto ti è venuto in mente un film per caso recente ma guardate qualsiasi film di DiCaprio guardate DiCaprio di War for Wall Street ma DiCaprio è uno degli attori più geniali della storia del cinema e lui è nato per fare questo mestiere è un mostro DiCaprio quando ha fatto buon compleanno Mr. Grape ecco questo è un film che potete andare a vedere che è uno dei meno conosciuti con Johnny Depp che fa suo fratello maggiore e credo Juliette Lewis mi sembra no chi è la ragazza Juliette Lewis se non sbaglio e lui meritava l'Oscar per quel film ed è chiaramente il film assolutamente in lingua originale e lui ho i brividi adesso che ripenso a quel film è un mostro proprio un mostro di una bravura eccezionale proprio in quel film è pazzesco DiCaprio grazie Claudio facciamo un colpo di scena della chiusura d'attore un attore mi hai rotto il capo e me ne vado bella 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 grazie Claudio grazie